l'alta pressione se ne va e lascia il posto a una depressione atlantica che porta umidità e pioggia mercoledì 26 novembre molto nuvoloso coperto con possibili deboli precipitazioni tra pomeriggio e sera minime stazionarie massima in abbassamento mare da poco mosso a mosso giovedì 27 novembre cielo molto nuvoloso coperto con piogge diffuse e discontinue e vento da nord est valori termici senza notevoli variazioni compresi fra gli 8 e gli 11 gradi mare da poco mosso a mosso venerdì 28 novembre ancora molto nuvoloso con precipitazioni sparse fenomeno in esaurimento temperatura in salita oscillanti fra gli 11 e 14 gradi mare da poco mosso a mosso la marea di mercoledì 26 novembre è normale la massima alle 12 e 15 70 centimetri la minima alle 19 meno 10 centimetri è un po' di più è un po' di più è un po' di più Grazie.